Siete qualcosa di meraviglioso. Signori di Gino Poli, il cielo in una stanza! Siete qualcosa di meraviglioso. Signori di Gino Poli, il cielo in una stanza! Questo soffitto giorno non esiste più. Io vedo il cielo intorno a noi. Che restiamo qui, addonati come se non ci fosse più. E in un piante al mondo suona un'armonica. Mi sembra un organo che vibra per te e per me. Su nell'immensità c'è. Per te e per me. Quando stai con me, sta stanza non ha più parenti. Ma al verino degli infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola. Se no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Quando stai con me, sta stanza non ha più parenti. Quando stai con me, quando stai con me, sta stanza non ha più parenti. con me, sta stanza non ha più parenti. Greta, Simona, Masmanacini, Enrico ed Alice. Che versione finta. Bellissima ragazzi. Bellissimo. Complimenti. Strepito. Molto bravo l'allievo alla batteria. Ma per iniziare con noi abbiamo grandissimi aspetti a dirvi da lui. La versione di Noè. È la versione di Noè. Eh, vuol dire che era mia quella di Gino, perché poi te... Vabbè. Complimenti. Quando avrete, ragazzi, uno, due, tre, il vostro pubblico. Va bene, compagni. Bravissimi. Grazie mille.